Allora, innanzitutto dobbiamo dire che il piano di emergenza comunale è un insieme di procedure operative per fronteggiare un evento calamitoso. E praticamente il cittadino troverà all'interno di questa struttura, di questo grande impianto, quelle che sono le norme comportamentali in caso di evento calamitoso. Quando parliamo di emergenze, però, noi dobbiamo fare un distingue, perché parliamo delle grandi emergenze, tipo un terremoto, una scossa sismica, un alluvione, un incendio. Ma parliamo anche di quelle che sono le cosiddette piccole emergenze. Noi abbiamo racchiuso il tutto, perché oggi andremo a presentare la struttura del piano e andremo anche a parlare di quelli che sono gli interventi che i cittadini dovrebbero tenere nell'evento di un caso calamitoso. Il tutto viene racchiuso all'interno di questa brochure, dove noi andremo a parlare, innanzitutto, che cos'è un piano di protezione civile, quali sono le emergenze, partendo dalle più banali, quelle che possono essere di carattere sanitario, incidenti domestici, e all'interno di questa emergenza, il cittadino che cosa deve fare, quali sono le norme comportamentali che deve avere. Parliamo anche di emergenze, scusa, di una crisi idrica. Anche questa qui è un'emergenza. E anche qui andremo a dire quali sono le problematiche, quali sono le cause, quali sono poi i rischi che il cittadino potrebbe incappare. Rischi incendi, sia di carattere privato, sia di carattere pubblico, rischio idrogeologico, rischio industriale, anche se noi non abbiamo delle industrie a valle. Però qui noi l'abbiamo inserito perché abbiamo la cosiddetta pirotecnica albanese, giù al buon reparo, che comunque è un'industria che costituisce un pericolo. Costituisce anche un pericolo per l'eventuale sviluppo di un incendio cosiddetto di interfaccia, essendo collocato in una zona boschiva, quindi dove c'è del verde, può tranquillamente svilupparsi un incendio. Per quanto riguarda l'evento poi più grande, quello che se ne parla sempre, quindi praticamente parliamo dell'evento terremoto, noi andremo a dire al cittadino che cosa deve fare. Ad esempio, si verifica un evento calamitoso, io che sto a casa, che cosa faccio? Innanzitutto cerco ripare sotto gli architravi, sugli stibili delle porte, poi una volta che la scossa è terminata, chiudo tutte quelle che sono le forniture della luce, dell'acqua, del gas e poi mi è presso a recarmi nella cosiddetta aree di attesa. Le aree di attesa sono state individuate in tutte le zone di vallo. Noi abbiamo diviso vallo in quattro settori e per ogni settore sono indicate le aree di attesa numerate. Le aree di attesa sono calibrate in rapporto alla popolazione che può accogliere e poi, nel caso di persone che hanno subito dei crolli delle abitazioni, le persone rimangono, una volta recatesi in questa aree di attesa, rimangono lì in attesa dei soccorsi. Nell'eventualità che ci siano degli sfollati, queste persone verranno portate alla cosiddetta zona di accoglienza che è stata individuata, per quanto riguarda il territorio di Vallo della Lucania, al centro fieristico, dove nel frattempo, in caso di grosso evento calamitoso, si sta recando la cosiddetta colonna mobile, dove verrà installato il campo base e che, oltre alle tende per l'alloggio delle persone, ha una cucina da campo, ha i servizi igienici, in maniera tale da poter affronteggiare questo grande avvenimento. E con lei qui parla, oltre che da rappresentante della protezione civile, come esperto, perché ha progettato questo piano? Sì, c'è da dire che il piano l'abbiamo progettato insieme ad altri due volontari della protezione civile. Noi abbiamo partecipato a una normale gara di affidamento in carico, insieme agli amici Antonio Priore, che è un geologo, e insieme al geomero Giuseppe Muscadello, che ha anche conseguito un attestato di disaster management, quindi ha fatto proprio dei corsi di comportamento che le cittadinanze dovrebbero avere in caso di evento calamitoso. Abbiamo progettato quindi questo piano, il piano in effetti c'era a Vallo, però il nuovo piano è stato rivisto alla luce della nuova espansione urbanistica, alla luce di quelle che sono le nuove zone, che vanno poi asservite, e che vanno, diciamo, come dire, vanno a tutelare le persone. Volevo dire che oltre a Vallo, parlo di Vallo, ma è chiaro che parlo del Comune di Vallo, all'interno della brochure troveranno spazio, ci sono le problematiche anche delle frazioni, di Massa, Pattano e Incellare, e anche lì sono state individuate le aree che le ho detto. Quindi quest'oggi la presentazione ufficiale con inizio alle ore 18, oltre naturalmente al sindaco Antonio Aloia e alla protezione civile ci saranno esperti del senso. Sì, allora come abbiamo strutturato in effetti l'evento? Ci saranno i saluti del sindaco, io mi limiterò semplicemente a un saluto per non togliere spazio agli altri relatori, ci sarà Antonello Priore che dicevo parlerà della struttura del piano, anche da un punto di vista tecnico, Giuseppe Muscatello parlerà di quelle che sono le emergenze in caso di evento calamitoso, poi ci sarà il dottor Giuseppe Guerino che è un altro esperto della protezione civile che parlerà delle città resilienti, cioè praticamente noi stiamo portando avanti una campagna delle Nazioni Unite per far sì che le città, i paesi, i comuni siano praticamente pronti a resistere a quelle che sono le grosse emergenze naturali. C'è il dottor Bernardino Iorio della Segreteria regionale della protezione civile, ci sarà il dottor Graziano Ferrari, è un dirigente dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia e Sismologia, il dottor Sergio Achille dell'Associazione Nazionale di Sastre e Manage MR, Giuseppe Guarino che ho detto prima, Bernardino Iorio che ho citato, e poi concluderà il tutto il dottor Giuseppe Priore che è il presidente del coordinamento di protezione civile del gruppo Lucano. Il suggerimento che si sente di dare ai cittadini in questo momento? Di leggere attentamente questo buscolo che verrà consegnato a tutte le famiglie. Noi abbiamo predisposto una stampa di 4.000 brochure, quindi chi verrà oggi gli verrà già consegnato questa brochure, poi il Comune provvederà ad inviare per ogni famiglia la brochure, ma di leggere con attenzione. Noi in effetti diciamo sempre che quando siamo in un momento di pace dobbiamo pensare a quello che potrà succedere in seguito. Speriamo che non succedano mai questi grandi avvenimenti, ma dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere pronti a affronteggiare qualsiasi tipo di evenienza, qualsiasi tipo di calamità naturale. Anche perché visto che siamo considerati una zona a rischio, quindi bisogna essere pronti, dicevo e mi ripeto, a affronteggiare questa eventuale calamità. Speriamo mai sostanzialmente.